Altro non è che il frutto di un fastidio, di un disturbo, di un'intrusione, che dopo qualche anno porteranno alla formazione di una perla. Amici, l'argomento di questo video è stato suggerito e in parte ideato e scritto da una donna. Vi invito nei commenti ad indovinare chi è. Un giorno mi ha chiesto, ma il processo che porta poi alla formazione della perla è davvero così noto? Cioè, lo conoscono davvero tutti? Io non ne so tanto. Per cui ho detto, bene, è interessante e pop, facciamo un video. Sappiamo che la perla è un oggetto prezioso, oltre che raro. Comunemente è noto dove si può trovarlo, anzi è noto da chi viene prodotto, dall'ostrica, o meglio da un mollusco perlifero. Premettiamo col precisare che tendenzialmente le perle possono nascere da svariati tipi di mollusco, ma come è noto derivano principalmente dall'ostrica. Quindi ciò che distingue questo prezioso oggetto dalle pietre e dai metalli preziosi sta proprio nel fatto che la perla non ha bisogno di un processo di estrazione dal suolo o dalla terra, insomma, ma viene prodotta da un essere vivente. Premettiamo che il processo di formazione può considerarsi meno romantico di quello che pensiamo, ecco, che è il simbolo della bellezza, della rarità. In realtà la perla altro non è che il frutto di un fastidio, di un disturbo, di un'intrusione. È un fatto incredibile, seguitemi. Il tutto ha origine quando il mollusco dell'ostrica viene disturbato ed irritato da agenti esterni, da un corpo estraneo, come ad esempio un parassita. L'ostrica, non riuscendo e non potendo espellere il corpo estraneo, ovviamente non è dotata di dimani, di pinne e di tentacoli, come reazione cerca di isolarlo, andando a secernere attorno all'intruso una sostanza chiamata nacre o madreperla, chiudendolo in una specie di involucro. Lo sapevi tu questo? No. Mi stai seguendo? La madreperla non è altro che una sostanza composta da cristalli di aragonite solitamente, cioè un minerale costituito da carbonato di calcio e da un'altra sostanza chiamata conchiolina. Quest'ultima è una proteina organica e non sarà altro che il collante che permetterà l'aggregazione dei cristalli di aragonite. Quindi immaginate la conchiolina come se fosse della colla, come quella di mucciaccia. Ed è grazie a questa che avremo poi la resistente consistenza della madreperla. In sostanza all'ostrica, per reagire all'intrusione del corpo estraneo, ok, secerne intorno a quest'ultimo degli strati concentrici di madreperla, che si andranno ad accumulare strato su strato e che dopo qualche anno porteranno alla formazione di una perla. Ecco, questa è una sezione di una perla, cioè come appare una perla se la spacchiamo a metà. Possiamo vedere distintamente i tanti straterelli concentrici e al centro il corpo che è stato inglobato. Questa invece è un'immagine di una perla al microscopio a scansione elettronica, dove la struttura straterellata è letteralmente incredibile. L'unità di misura mostrata, come vedete, è un micron, cioè un millesimo di millimetro. Se le perle sono così rare, com'è che stanno ovunque, sono così frequenti? Beh, ovviamente c'è lo zappino dell'uomo, anche stavolta. Infatti le perle definite naturali, beh, se ne trovano poche in natura. Nella maggior parte dei casi, quelle che si trovano in commercio, quelle che vediamo nei negozi e che possiamo comprare, sono perle di allievamento o di coltura. Indovinate come viene fatta la coltura? Innestiamo artificialmente i corpi estranei all'interno del mollusco, all'interno dell'ostrica. Provochiamo quel fastidio che metterà in moto il processo di formazione delle perle. In questo processo, detto di nucleazione, l'ostrica viene aperta per circa 2-3 centimetri, con accortezza chirurgica. Il tecnico poi introduce nella fessura l'intruso e poi il processo di formazione della perla sarà lo stesso di quello delle perle naturali. Al giorno d'oggi è diventato molto difficile riuscire a distinguere le perle naturali dalle perle di coltura, perché le tecniche sono ormai di altissima qualità. Ci sono poi le perle di acqua dolce e le perle di acqua salata, di mare. Le prime per formarsi ci mettono da 1 a 6 anni, per le seconde, quelle marine, il periodo varia dai 5 ai 20, quindi ci mettono molto di più quelle marine. Ovviamente ciò comporta anche una variazione del prezzo, in quanto le perle di acqua dolce sono decisamente più economiche, quelle di mare, come detto, sono le più costose. Questi periodi valgono sia per la creazione naturale che quella assistita, ok? Ora vediamo dove si producono maggiormente e quali sono i tipi più celebri. Per quanto riguarda le perle di acqua dolce, l'indiscusso leader mondiale è la Cina, sta sempre in mezzo. I colori più tipici delle perle di acqua dolce sono il bianco, rosa pesca e lavanda. Le perle di acqua salata sono divise in tre grandi categorie. Uno, quelle del South Sea australiane, sono le più grandi perle al mondo e sono molto, molto rare. La dimensione media, pensate, va dai 13 ai 20 mm. È una bella biglia. Le zone di produzione dove si riesce a coltivarne di così grandi dimensioni sono limitate, principalmente in Australia, come accennavo, ma anche nelle Filippine e in Indonesia. Ah, e non sono sempre rotonde e solitamente presentano una variazione di colori che varia dal bianco, argento, dorato. Poi ci sono le perle di Tahiti. Il loro colore è naturalmente più scuro e varia da un grigio scuro iridescente con delle sfumature riflessi dal rosato al verdognolo, al brunito e al melangiato. La particolarità di queste è che sono molto delicate e purtroppo in ogni coltivazione ne muoiono tantissime. Terzo tipo, Akoya, giapponesi, principalmente coltivate in Giappone, Cina e Vietnam. Sono dotati di un'eccellente luminosità e sono quelle più frequenti che vediamo in giro, generalmente di colore bianco, avorio, crema. Poi bisogna precisare che non tutte le specie di ostriche riescono a sopravvivere dopo la raccolta delle perle. Quelle che riescono a sopravvivere dopo la raccolta, come quelle di Tahiti e quelle australiane, saranno soggette ad un nuovo procedimento di nucleazione, producendo delle perle ogni volta di dimensioni maggiori. Fai un ciclo di perle, poi la storia non è che si ferma là, se ne fa un altro, e poi un altro, e poi un altro. Nonostante ciò, dopo che le ostriche avranno subito un certo numero di innesti, i coltivatori concedono alle stesse un periodo di riposo, così da potersi riprodurre e favorire il ripopolamento dell'allevamento. Gli allevatori, comunque, durante il loro lavoro, sono estremamente attenti e devono effettuare numerose verifiche per tutta la durata di crescita del mollusco. Quindi quando le cose sono fatte bene, il controllo della qualità, della temperatura dell'acqua, dell'ambiente vegetale c'è. Questa accortezza è necessaria anche per gli allevatori. Perché? Perché ovviamente se l'ostrica non funziona più bene, non produrrà più le perle volute. Quindi si tende a trattarle con i guanti. E poi è utile sapere che ovviamente ci sono le perle false. Sono sicuramente meno desiderate, ma ad ogni modo si trovano comunemente in commercio e alla portata di tutti, ovviamente. Questa volta sono prodotte interamente dall'uomo e hanno solamente la forma di una perla naturale, ovviamente. Poi per il resto niente, perché sono o di vetro o di ceramica o di plastica addirittura. È l'uomo a dargli la forma e l'effetto della perla vera, ecco. La copertura esterna, per esempio, si fa con dei materiali che imitano l'effetto, appunto, della madreperla. Potrebbe tornare utile sapere che un metodo per riconoscere una perla naturale da una finta è provare a strafinare la perla sui denti, delicatamente, ovviamente. Se si nota una certa consistenza ruvida e leggermente granulosa, allora è molto probabile che sia naturale. Invece quando è liscia, liscissima, è finta. Ovviamente vi consiglio di rivolgervi ad una persona esperta. Ultima curiosità che voglio condividere con voi, perché è importante, è il ruolo delle barriere di ostriche. Ma che sono queste barriere di ostriche? Conosciamo solo le barriere coralline. Eh no, ci stanno anche le barriere di ostriche. Sono meno conosciute, ma devono ritenersi comunque importanti per l'ambiente e per l'ecosistema in cui viviamo. Pensate che ogni ostrica può filtrare da 110 a 190 litri circa di acqua al giorno. Quindi hanno una grande funzione, quello di poter rigenerare le acque dei mari. E questo può contribuire ad arricchire la biodiversità e contribuire a ripopolare delle acque. A tal proposito vi riporto un esempio molto curioso, ma molto interessante e concreto. È il Billion Oyster Project di New York, che consiste nel ripulire l'acqua del porto di New York con un miliardo di ostriche. Vogliono metterci un miliardo di ostriche nel porto in modo che possano pulire il porto stesso. Si stima che con un miliardo di ostriche, pensate, il porto potrebbe essere pulito, l'acqua del porto potrebbe essere pulita in soli tre giorni. Nel 2020 sono riusciti ad arrivare a 17 milioni di ostriche. Dunque, possiamo terminare questo video curioso col dire che le ostriche, oltre a produrre un simbolo di bellezza, di rarità e femminilità come le perle, oltre ad essere un alimento gustoso e raffinato, hanno anche una funzione molto importante per l'ecosistema. E vanno ovviamente preservate e protette. Si è spento lo schermo, spero che questo video vi sia... Sì, bene, spero che questo video vi abbia incuriosito, appassionato e divertito. Dai, con questi video divertenti è anche più piacevole, insomma, imparare qualcosa di nuovo. Io sono Andrea, questo è Geopop e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Ciao!